Musica E' senz'altro il personaggio caltagironese più famoso nel mondo dello sport. Ovviamente parliamo di Agesirao Greco, del quale ricorre proprio quest'anno il 150esimo anniversario della sua nascita, che risale appunto al 1866. Illustrissimo personaggio, longevo non soltanto nella vita terrena, ha vissuto ben 97 anni ma anche sul piano squisitamente sportivo. Una carriera alla sua lunghissima, costellata da una lunga serie di vittorie nell'arco di 47 anni. Di questo parleremo e soprattutto di questa interessante iniziativa che si svolgerà, verrà celebrata mercoledì prossimo 27 luglio in Piazza Municipio a Caltagirone, organizzata fra gli altri e soprattutto, sottolineo, dall'Accademia d'Armi Agesirao Greco, il cui presidente è qui con noi, Massimo Porta. Allora, è un personaggio che ha fatto la storia della scherma mondiale, dal quale iniziamo con questa domanda. I giovani del terzo millennio debbono innanzitutto prendere che cosa, imparare che cosa da un personaggio così? Innanzitutto dobbiamo dire che è stato un uomo, lo dico senza retorica, che ha voluto onorare il suo paese con la più maiuscola. Era orgogliosamente italiano e apparteneva a quella generazione di valori antichi, che sono naturalmente tutti dentro lo sport della scherma, che in buona parte vanno recuperati. Il rispetto, la dignità e quindi il grande senso di solidarietà umana che deve accompagnare non solo i fatti sportivi, ma i fatti della vita. Valori antichi che sono sempre moderni, che anche attraverso questa importante figura che stiamo ricordando, che ricorderemo particolarmente il 27, come dicevi tu, noi dobbiamo rilanciare. Quindi per i giovani, in questo caso per i giovani caltageronesi, per i giovani del Calatino, perché c'è un legame speciale con me, diremo, della famiglia di Agisilao Greco con la vicina Mineo, io credo che sia importante riattualizzare questa figura in rapporto appunto a questi valori da recuperare. Agisilao Greco è uno dei tanti che questi valori ha fortemente rappresentato con la sua lunga vita, non solo di sportivo, ma soprattutto di uomo. Abilissimo Spadaccino, abile anche con la sciabola. Facciamo un inciso in seno a questa importante iniziativa per parlare un attimino dell'Accademia d'Armi Agisilao Greco. Qual è lo stato di salute oggi? E' uno stato di salute buono, ottimo, considerato che noi da qualche anno abbiamo inteso soprattutto valorizzare, e non poteva non essere così, la presenza giovanile. Quindi noi ci occupiamo prevalentemente di scherma giovanile. La partecipazione c'è, è importante, i successi stanno tornando ad arrivare, perché li avevamo già conseguiti sin dai primi anni del 2000, addirittura con due titoli italiani giovanili, e quindi siamo estremamente soddisfatti, lo abbiamo detto altre volte, anche attraverso questi microfoni del lavoro che stiamo svolgendo. Un plauso speciale, naturalmente lo si deve sì alla società, al direttivo, ma particolarmente ai due istruttori, che sono due giovani caltagironesi doc, Gloria Salerno e Simone Sortino, che hanno sicuramente, da un anno a questa parte, dato un impulso nuovo e diverso a tutto l'ambiente, e particolarmente ai giovani che si sono iscritti alla nostra accademia. Quindi un ritorno sulla scena nazionale, che negli ultimi anni era un po' venuto meno, un'affermazione sul piano regionale, con ben due titoli, che naturalmente ci hanno fatto molto piacere, un rapporto consolidato e riconsolidato con le scuole di Caltagirone, noi speriamo anche del Calatino, attraverso i progetti Sport Scuola, che quest'anno, particolarmente con l'Alessio Narbone, abbiamo inteso valorizzare con un'esperienza molto positiva. Quindi sicuramente siamo soddisfatti, sono orgoglioso di coordinare un gruppo di lavoro che innanzitutto è fatto da amici, a proposito di valori di cui parlavamo prima, e poi da tecnici, da sportivi, da genitori, da allievi soprattutto. Allora, ricordiamo, anche se adesso sicuramente avrete modo di vedere, in sovrimpressione alla locandina che è stata realizzata in occasione di questo importante evento, che ricordo si celebrerà il prossimo mercoledì 27 luglio alle 20.30 in Piazza Municipio a Caltagirone. Quindi gli ospiti importanti, diciamo così, sono innanzitutto Giorgio Scarso, presidente della Federazione Italiana Scherm, Renzo Musumeci Greco, presidente dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco per l'appunto di Roma, nonché nipote ovviamente del grande Agisilao Greco, Sebastiano Manzono, presidente del Comitato Regionale Scherma Sicilia, ovviamente il cui presidente Massimo Porta, nella veste di presidente dell'Accademia d'Armi Agisilao Greco, e quindi il sindaco Gino Ioppolo, e il tutto in collaborazione della Satin Dance Sicilia, diretto da Mairi Carapezza. Allora, possiamo accennare al programma di questo appuntamento? Che cosa vedremo? Ma, ci eravamo impegnati sin dall'anno scorso, allora quando Renzo Musumeci Greco, il maestro Renzo Musumeci Greco, che dirige l'Accademia fondata dal papà di Agisilao a Roma nel lontano 1878, il papà era di Mineo, lo dicevamo fuori onda prima, ed era un capo garibaldino, quindi una figura carismatica, ricordata e immortalata al pincio con un busto addirittura, e al Consiglio Comunale di Mineo, nella sede del Consiglio Comunale di Mineo, come mi ricordano spesso alcuni amici menenini con un basso rilevo, parliamo del papà di Agisilao, dicevo che ci eravamo impegnati sin dall'anno scorso, allora quando Renzo Musumeci Greco venne a stare con noi un paio di giorni, a omaggiare l'illustre antenato, il nostro illustre concittadino, per le festività di San Giacomo del 2016. Noi siamo abituati ad onorare gli impegni, questo impegno lo onoreremo, naturalmente non lo onoriamo solo come Accademia, ma lo onoriamo come città di Caltagirone, come è giusto che merita un grande uomo, un grande sportivo come Agisilao Greco, e lo facciamo nel palcoscenico più bello probabilmente, più prestigioso della città, cioè in piazza Municipio. Lo faremo assistendo ad una dimostrazione dei nostri allievi, alcuni torneranno appositamente dal mare, dalle vacanze solo per stare con noi, con la città, con l'Accademia quella sera, lo faremo con la collaborazione della brillante compagnia di Meri Carapezza, diretta da Meri Carapezza, come tu poc'anzi dicevi, e lo faremo con illustri ospiti. Innanzitutto saremo onorati dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Scherma, dal nostro corregionale Giorgio Scarso, che l'indomani parte per Rio de Janeiro, con la squadra, con la nazionale di Scherma, che tante soddisfazioni, sono convinto che anche quest'anno vorrà dare al nostro paese, allo sport italiano, attraverso la conquista di, speriamo, tante medaglie d'oro. Però ci ha tenuto il presidente Scarso, la data l'abbiamo individuata anche con lui, soprattutto con lui, a venire a Caltagirone. Per tanti motivi, per i legami antichi del presidente Scarso con Caltagirone, che fu il primo allenatore dei primissimi vagiti dell'Accademia Gesirao Greco di Caltagirone, per un rapporto che è continuato e che è passato anche attraverso la presidenza del mai dimenticato ingegnere Scaminaci e per un rapporto di amicizia, di stima che poi si è consolidato e di cui mi onoro essere anche parte dirigente. Avremo, naturalmente, lo dicevamo, Renzo Musumeci Greco, che è impegnato non solo nel mondo della scherma, ma anche nel mondo della cinematografia e del teatro, sempre in rapporto con la scherma, come probabilmente avremo modo di dire giorno 27, e che dal 17 gennaio scorso, data di nascita di Gesirao Greco, eravamo a Roma a festeggiare con lui questo evento, eppure è divenuto il presidente della Casa Museo Musumeci Greco, cioè l'antica Accademia d'Armi, fondata nel 1878, dove la sera, tanto per fare qualche nome, andavano Marinetti, Trilussa, D'Annunzio, e tutti gli intellettuali e molti politici di tutti gli schieramenti, di tutti gli schieramenti della Italia di allora, è diventata, pardon, Casa Museo, non più solo Sala Scherma. Casa Museo, e quindi perché è piena di cimei, piena di ricordi, che parlano anche di Caltagirone, di Mineo e del Calatino, quindi per noi è un motivo di grande orgoglio. Lui quindi anche nella veste di presidente, brevemente credo che ci racconterà di questa nuova avventura museale, culturale, con la quale il nome di Caltagirone viene proposto. Tra le quali, scusa, io lo ignoro, la famosa spada d'oro che fu insomma conferita a Buenos Aires. E quella si ammira lì alla Casa Museo, di via del seminario, nei pressi del Pantheon. Bene. E poi avremo, anche per concludere, la presenza pure del nostro caro presidente del Comitato regionale, Sebastiano Manzoni, che tanto segue le attività dell'Accademia Gesilavo Greco di Caltagirone e col quale quindi si è consolidato un rapporto molto forte. Benissimo, dunque rinnoviamo l'appuntamento, lo ricordo ancora, mercoledì prossimo 27 luglio, ore 20 e 30, Piazza Municipio a Caltagirone con appunto questo importante ricordo ad onorare la grande figura di Gesilavo Greco a 150 anni dalla sua nascita. Prima di concludere questo appuntamento adesso apriamo un'altra piccola parentesi perché Massimo Porta in un recente punto di vista ha parlato di San Giacomo, siamo in piena festività del Patrono, della città della ceramica e voleva concludere il discorso già iniziato con altre interessanti informazioni. Ancora Massimo Porta, prego. Sì, brevemente, per concludere quel ponte che avevamo lanciato la scorsa volta. Abbiamo parlato del cammino di Santiago di Compostela che attraverso tutta la Spagna del Nord ci porta sull'Atlantico e quindi a Santiago dove è sepolto il corpo del nostro apostolo, patrono della città. E parlavamo di rapporti intensi sicuramente culturalmente forti fra la nostra città e il cammino di Santiago e Santiago. Voglio brevemente in pochissimi minuti ricordare alcuni aspetti. La statua del Santo è costellata da conchiglie soprattutto il cappello del pellegrino che è uno dei simboli della tradizione del cammino e della esperienza concreta del cammino che ci ripara dalla pioggia e dal vento e dal freddo pure naturalmente il bastone e naturalmente il libro dell'Evangelizzatore. Ma soprattutto vorrei sottolineare probabilmente pochi telespettatori lo avranno notato e così valorizziamo di più la grande e bellissima cassa argente a Gagginesca che contiene la reliquia del Santo che appunto è a Caltagirone racconta alcuni episodi della vita di San Giacomo ma ne racconta uno che appartiene al cammino il miracolo dell'impiccato e dei galletti che viene rappresentato in una delle lunette del cammino prego soprattutto i giovani di fare attenzione appunto a questa lunetta dell'impiccato che racconta uno dei miracoli più famosi più leggendari più tramandati nella Spagna del Cammino di Santiago a sottolineare e concludo appunto il rapporto che anche tanti secoli fa c'è stato c'era fra la Spagna il Cammino di Santiago e Santiago di Compostela la Sicilia e particolarmente Caltagirone che noi con orgoglio ricordiamo essere in effetti la capitale Jacopea della nostra amata isola a a a a a a Grazie per la visione!